Oggi in commissione si è votato il piano sociale, quindi il riordino e la riorganizzazione del piano sociale della regione Abruzzo che ha visto una commissione al lavoro in maniera battente con tante audizioni, gli ambiti sociali, le città capoluogo di provincia e si è arrivata alla definizione di questo piano che era fondamentale per la sussistenza e quindi la soddisfazione di tutti i comuni e i piccoli comuni abruzzesi. Il piano sociale quindi trova la fine del suo percorso amministrativo e arriverà in consiglio il 24. Il presidio di 118 a Bazzano è stata una risoluzione presentata dal consigliere di Benedetto e dal consigliere Sant'Angelo. È una risoluzione importante perché dopo il terremoto dell'Aquila c'è stata una ridistribuzione della cittadinanza aquilana su aree che precedentemente non erano demograficamente significative. Oggi c'è una necessità importante di mettere una postazione di 118 nella zona di Bazzano e ha visto il parere favorevole sia dell'assessore Veri che del direttore generale, il professor Fernando Verdinando Romano con un percorso che dovrà passare attraverso il CREA ma c'è tutta la volontà sia della maggioranza che anche della minoranza di portare a casa questa nuova postazione. Grazie a tutti.